Si chiama Daniel Krause, è un ragazzo di soli 10 anni di età e pensate che vende i giocattoli per avere i soldi per il funerale dell'amato zio, che purtroppo è morto, è passato a migliore vita. Lo zio si chiamava Brian, il rapporto con questo zio era davvero idilliaco, era molto stretto, erano fatti inseparabili, amava stare col nipotino, esaudiva ogni desiderio di lui e tra loro era nato un feeling davvero molto speciale. Quando Brian però è morto per colpa di un arresto cardiaco, per Daniel è stato un shock in piena regola e ha voluto fare un'ultima cosa per ringraziare di tutto, per aiutare lo zio, ossia quello di vendere i giocattoli, per avere i soldi per celebrare il funerale di zio Brian. Insomma, ha compiuto una scelta davvero coraggiosa a Daniel Krause, andando a vendere i suoi giocattoli, per, diciamo così, pagare, ripeto, i soldi del funerale dell'amato zio Brian, per quanto amava lo zietto amato, ripeto. Un saluto caro a voi, iscrivetevi al prossimo video da Leandro, un narratore da Leandro.